Sì, ma è arrivata Heidi! Fermate, ferma tutto, ferma tutto, ha detto Yu, ma che tira? Ecco, c'è il suo grande buffo che ha la cistifelle a fiamma, ormai non si muove proprio più, ha lasciato la curatella e la bandierina. Ma qua che c'è, arriva una sbampa di merda, una puzza terribile. Otonio Cartogno, riprendi un po' te che mi fumo una sigaretta, però fai un commento, una cosa divertente. Fai l'idea, io riprendo e ti fai i commenti. Vabbè, mentre fumi che non puoi parlare. Riprendimi. Allora, signore e signori, la telecronaca Made in Rio. In Rio. Made in Rio. Questa poi verranno tutti irradiati dal Tinga Verde, dal modellatore da Mandrake. No, da Davide perché purtroppo certa gente... No, vi siete persi una parata. Ma che parata? Lui non para, non para mai. Ma che parata? Non l'ha presa. Fester. Non hai capito perché alla moto di Cindy hai torno della batteria, tutte le energie della batteria si è succhiata lei. Si, ma quella è dura dura. Sono donne del sud, donne di una volta. Ma che è questa cosa qui delato? Anzi, diciamo, Cindy è una donna del sud, Patti è una donna di una volta. Oh, che è? Che sospetto tutto. Che la golla eh? Finisce la partita. Per recuperare. Alla grande signora. Alla grande signora. Alla grande. Bella ragazzi. Però divertente. Vediamo qua come si chiude.